Sul fatto che fosse un tema di quelli che fanno a capigliare forse pochi avrebbero scommesso, eppure già giovedì scorso durante la penultima puntata di Ring erano scoppiate le prime scintiglie. Ad alimentarle il consigliere comunale del nuovo centrodestra Paolo Robis e il consigliere regionale di Sinistra Ecologia e Libertà Giulio Lauri. Tema del contendere la scelta da parte della giunta regionale di non confermare il cosiddetto bonus bebè, ovvero il contributo di 1000 euro destinato alle famiglie in difficoltà in seguito alla nascita di un bambino, contrapposta alla decisione di stanziare un contributo cospicuo, 500 mila euro, per l'acquisto di bici elettriche. Sono soldi che rientrano tutti perché attraverso l'IVA questi soldi nel giro di 12 mesi rientrano integralmente. La scelta è ideologica, ma c'è una questione di priorità. Allora se dici abbiamo esaurito le priorità, ci avanzano questi soldi, facciamo anche i giocattoli. Siccome mi pare che le priorità sono tutt'altro ottoli, A me piace la cosa che l'incentivo si prende la bicicletta elettrica, però io ho sentito i cittadini lamentarsi che non c'è più il bonus bebè, consentimi, non ho sentito nessuno lamentarsi dicendo che bello che ci fosse un incentivo con la bicicletta elettrica. Ora l'arena del contendere è divenuta più virtuale e ad alimentare la polemica è bastato un tweet di Marco Gabrielli, medico e già candidato per l'allora PDL, alle elezioni regionali, il quale ha ancora una volta collegato i due provvedimenti, scatenando su Twitter una serie di botte e risposte che ha coinvolto nuovamente Rovis e Lauri e che a quanto sembra non è destinata a distinguersi nel breve, sempre che di sfuggita qualcuno non nomini il premier turco, ma questo è un altro discorso.